Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto molto delicato che mi capita di affrontare spesso in tutto il mondo dell'oncologia, per i miei pazienti oncologici, ovvero quando si può definire accanimento terapeutico nei confronti dei nostri animali. Partiamo dal presupposto, quando siamo davanti ad una diagnosi difficile, complicata, siamo veramente spaisati, non sappiamo cosa fare, non sappiamo che direzione prendere, non sappiamo quanto è giusto intervenire, quanto no, sempre perché noi dobbiamo considerare che i nostri animali non possono decidere per se stessi, siamo sempre noi a fare da intermediari a prendere decisioni per loro, quindi questo è un presupposto che va ricordato sempre. Ma quindi quanto è giusto intervenire e quanto invece è giusto fermarsi o anche, da un'ipotesi assolutamente da considerare per certe patologie, accompagnarli in maniera molto dolce e molto indolore. Di base, per quella che è la mia idea personale, la mia esperienza, posso dire che è giusto fare tutto quello che si può fare nel rispetto della qualità della vita, ovvero finché il nostro animale è in grado di fare la sua vita dignitosamente, mangia, salta, gioca, corre, fa la sua attività e non ha risentimento, allora stiamo facendo la cosa giusta. Non è giusto andare oltre, se andare oltre vuol dire avere il nostro animale perenemente ricoverato in mezzo a dolori, privarlo di quelle che sono le sue attività quotidiane, tenendo presente comunque che in caso di un animale anziano ovvio che non dobbiamo aspettarci un livello di gioco, interazione pari a un cucciolo, però comunque sia devono essere delle attività giuste anche per la fase d'età, quindi non è corretto insistere qualora si debba andare a privarlo di quella che è la sua quotidianità. È normale durante certe procedure come delle chirurgie o anche delle chimoterapie avere magari uno o due giorni in cui non si è in forma e questo va messo in conto, però come sempre bisogna considerare quella che è una bilancia, noi dobbiamo mettere i pro e contro di ogni cosa, quindi se a fronte di un giorno di lieve malessere, perché deve essere sempre qualcosa di gestibile, attenzione, se a fronte di un giorno di lieve malessere io posso dare dei giorni migliori e anche dei giorni in più al mio animale, allora è giusto il percorso che sto facendo. Se il percorso che sto facendo porta il mio animale a tre mesi di ricovero pieno di tubi, di flebo, di medicine e di dolore, a mio parere non ne vale la pena e lì è un confine veramente difficile e sottile, perché comunque sia c'è una nostra parte emotiva di non riuscire a farle andare via, no? I nostri animali, però allo stesso tempo noi dobbiamo sempre ricordare che per loro la cosa importante non è mai la quantità della vita, ma è la qualità della vita. È una cosa molto triste da accettare per noi, purtroppo loro vivono molto poco rispetto a quello che vorremmo, questo è un grande limite dei nostri animali, per quanto ci danno vivono molto poco, però anche lì non hanno la concezione di dire ho vissuto 5 anni, ho vissuto 10 anni, non ho vissuto i 15, è una concezione di dire oggi sono contento e posso giocare con la mia pallina, oppure oggi sto malissimo e non riesco neanche ad alzarmi per fare la pipì e questo è un fattore che dobbiamo sempre valutare. Un altro fattore delicatissimo in caso soprattutto di patologie oncologiche è procedo con una chirurgia, procedo con una chemioterapia, procedo con qualcosa che possa servire. Anche lì il mio punto di vista dipende se questa chirurgia, questa chemioterapia ha degli effetti collaterali minimi, trascurabili, controllabili magari con dei farmaci specifici per il dolore o per eventuali effetti collaterali, allora sì procedo se poi ho un miglioramento della qualità della vita e un prolungamento anche della durata della vita. Se invece sono interventi comunque sia che vanno a peggiorare quello che è lo stato attuale, allora a mio parere sempre bene, riflettere un attimo. Come sempre valutate insieme al vostro medico veterinario oncologo di fiducia, sono decisioni molto complesse ed è importantissimo essere ben affiancati, non vi preoccupate che comunque sia saprete sempre fare la scelta giusta per il vostro animale. Come sempre se vi è piaciuto il video mettetemi un like, se ci sono argomenti che volete trattare insieme a prossima volta scrivetemelo nei commenti e io vi saluto, alla prossima!